Dopo il derby ripartire subito dopo pochi giorni è quello che ci voleva. Gliuchiamo sempre per vincere e lo faremo certamente anche questa sera. Non guardiamo in faccia nessuno, la Lazio è una grande squadra che è prima in classifica non per caso, quindi andremo in campo e faremo la nostra partita come sempre. Buonasera dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena dove vi salutano Massimo Tecca, Stefano Nava, Cesena, Lazio. Il grosso di Diennes, a Pia, ha colpito al volo e ha mandato fuori. Lauro, il grosso di Lauro, stava per diventare un tiro in porta. Foggia con sinistro, attraversa di Foggia. È sfortuno però, è importante continuare così per cercare di portare a casa i tre punti importanti. Prova Bresciano a calciare. Prova Parolo, splendido trovo di Parolo, vantaggio Cesena. Un missile, quello di Parolo che ha battuto all'incrocio Mosnera. Lo so, in allenamento ogni tanto ci provo, mi vengono, mi vengono, mi dino male. Invece stavolta l'ho presa proprio bene per sentire fuori un gol Neurogoal. È finita, è finita. Cesena batte Lazio 1-0.